Ciao ragazzi, volevo farvi un saluto, come vedete questa maglia di questo giorno speciale è qui con me, sono un po' sudato perché finirò di allenarmi. Guarda, volevo farvi un saluto che mi sentite da tanto tempo per ricordare questo splendido giorno dove iniziamo così questo 20 aprile, un anno dalla promozione e soprattutto mi ricordo tante emozioni di quella stagione. Avevo un unico obiettivo in testa che era di portare Roma in Serie A e naturalmente il collegamento all'ultima partita con Legnano dove appena essere il fischio finale di quella partita è stata un'emozione pura. Siamo accorsi ad abbracciare i tifosi, ad abbracciarsi noi squadra, poi ci sono tanti aneddoti da ricorrere con la partita dove avrebbe giocato ognuno ha dato il suo piccolo contributo. Posso ricordare il mio contributo, le due triples, tra cui una col fallo, dove avrebbe dato una lunga quella gara e soprattutto c'eravamo così la settimana per preparare la partita dove c'era tanto nervosismo, c'era tanta tensione però siamo arrivati pronti con l'unico obiettivo che era quello di vincere. Poi ragazzi vi faccio un saluto a tutti quanti voi, se ne sembra il mio cuore, un saluto dal vostro tagliatore. Ciao!